Oh no, 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 Loren. Loren, non farmi questo. Che posto carino. Beh, è una casa. Le dispiace se uso il bagno? No, no, affatto. È proprio sulla destra. Pronto? Cosa sta succedendo lì? Non è come creduto. No, 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 no. Fallo uscire subito. D'accordo, senti, è andato al bagno. Poi se ne andrà, va bene? Ok. 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 a tutti Una chiamata importante? Perché stai frugando nella tasca del mio cappotto? Lo stavo sistemando quando è caduto questo. Allora, di chi hai paura? Di che cosa ho paura? Non li leggi i giornali. Furte, donne pugnalate. Lo so, lo so. Molte di loro erano mie clienti. Tu pensi? Ok. Ti capisco. Le apparenze a volte ingannano. È un tagliacarte. È un regalo di un cliente. Vai in questa scatola. Così. Scusa, io credo di aver esagerato. Così. Così. Grazie a tutti. Questo... questo non va bene. Insomma, è troppo presto. Ok. Scusami. Certo. Ti telefono domani. D'accordo. Grazie. Grazie ancora. Ciao.